Match point per Soverato, ce ne sono cinque, a ricorda il servizio, riceve De Gortes, poi Bacciottini per il primo tempo, out di Barazza e finisce qui 3-1, volei Soverato, una partita comunque bella e da vincente Melissa. Sì, una bella partita, mi è piaciuta molto, bravo Soverato a recuperare nei set di svantaggio, sia nel primo che nel secondo set quando si trovava in svantaggio, riuscito a recuperare e a portare a casa il set. Un piccolo, insomma, una piccola pausa c'è stata nel terzo set, però sono entrate in campo cariche per vincere il quarto set. Barbara Bacciottini torna Soverato in questa prima giornata del campionato 2018-2019 con Olbia sconfitta 3-1, una partita comunque lottata, vincente, nei primi due set siete partiti bene, avete avuto pure un buon vantaggio, poi però vi siete fatti rimontare. Sì, è stata una partita molto tirata, noi siamo stati avanti e non siamo riusciti a sfruttare questo vantaggio che abbiamo avuto nella prima parte di tutti i set e penso che sia stato un po' questo che ci ha portato a perdere la partita. Grandi emozioni sicuramente per te, una partita da sempre molto sentita, una partita che ti ha visto comunque anche protagonista, forse si poteva fare qualcosa di più dopo le reazioni che avete subito dal Soverato, non siete stati bravi voi magari a reagire prontamente. Sì, per me è sempre un'emozione venire a giocare a Soverato e per quanto riguarda la partita di oggi sì, dovevamo un po' sfruttare questo vantaggio che abbiamo portato avanti in tutte le prime parti del set e chiudere, non l'abbiamo fatto. Prima partita ovviamente c'è ancora molto da lavorare per tutte le squadre in campo, quindi anche per voi, però ci sono comunque dei margini di miglioramenti importanti per il futuro, una squadra comunque nuova con tante giovani e anche l'Olbia, quindi è ovvio che all'inizio ci siano delle difficoltà. Sì, sì, anche noi dobbiamo lavorare insieme perché abbiamo iniziato un po' più tardi la preparazione, quindi man mano che lavoreremo troveremo sempre più un feeling di squadra e ci aiuterà sicuramente. Coach Anile, 3-1 sconfitta qui a Soverato da parte dell'Olbia, probabilmente un po' di rammarico perché forse un punticino si poteva raccogliere vedendo soprattutto i primi due parziali dove avete avuto anche 6-7 punti di vantaggio. Sì, no, assolutamente sì, siamo partiti molto bene, purtroppo poi c'è mancata la cattiveria giusta per essere avanti alla fine del set, l'ho detto ai ragazzi durante il time out, è una cosa su cui stiamo lavorando, abbiamo dei cali improvvisi, Sì, siamo una squadra da una parte esperta, anche Gianni Barazza, Simona, Manuela Fiore ovviamente, ma poi anche altre ragazze giovani che comunque devono riuscire a tenere l'attenzione alta sempre fino alla fine. Peccato perché si poteva fare un punto, siamo partiti, non lo nego, per venire qua e per fare punti perché la squadra aveva lato bene durante il mese di lavoro e ovvio che siamo un po' deficitari quanto riguarda il gioco, perché appunto abbiamo fatto un amichevole, un allenamento congiunto e siamo partiti, come diceva prima Barbara, il 3 settembre, quindi è normale, ci sta. Obiettivi per questa stagione, per questo campionato che per tutti, tra virgolette un po' anomalo perché questi due gironi, questo format nuovo, quindi insomma sappiamo anche che i punti saranno importanti, quelli raccolti nella prima fase, soprattutto quindi nelle partite esterne, riuscire a raccogliere un punto sarà importante per muovere la classifica. No, allora l'obiettivo è quello di stare nella pool promozione, perché comunque vuol dire essere già salvi, che di solito Olbi parte per la salvezza e appunto se uno mira a essere nella pool promozione è già fatto il 50% del proprio lavoro e poi di divertirci, nel senso che nel momento in cui stiamo su, cercare di fare il meglio possibile. Penso di avere una squadra che può esprimere un bel gioco e oggi a tratti si è visto sicuramente e col bel gioco sicuramente possiamo darci molte soddisfazioni, peccato non l'ho fatto da subito oggi, da vivo e complimenti. Il capitano Ramon Arricò parte bene il Volle Soverato, 3-1 in casa con Olbi, era importante partire con il piede giusto davanti a questo caloroso pubblico che sicuramente vi è incitato dall'inizio alla fine, tre punti importanti per iniziare, vincere aiuta comunque a lavorare anche meglio sicuramente. Ma quello sicuramente, erano dei punti importanti sia per la classifica che per quanto riguarda la nostra ecosicurezza. Poi il fatto di giocare in casa ovviamente la prima partita era per noi importante. Avete sofferto soprattutto nella parte iniziale dei primi due set, siete andati sotto dai diversi punti, però la squadra ha mostrato carattere, non si è disunita e gradualmente è riuscita a recuperare, ha reagito, quindi questo dal punto di vista del carattere sicuramente è un segnale positivo. Beh quello è stato molto importante per noi, abbiamo sempre avuto questo lato del carattere, ecco non ci buttiamo subito giù, comunque cerchiamo di lottare e questo per noi è un grosso vantaggio. Abbiamo avuto difficoltà però è anche normale, non è una giustificazione il fatto che la prima partita, un po' l'emozione entra in gioco e quindi si sa che le prime partite di campionato sono sempre un po', no la tecnica non si vede proprio benissimo, però contenta ecco del risultato. Con coach Napolitano possiamo commentare questa prima vittoria del volley soverato, in prima giornata vittoria casalinga, dicevamo con Ramona davanti a un grande pubblico, era importante partire bene, l'abbiamo vista durante il match più volte durante i time out, molto contrariato con le sue ragazze giustamente, però alla fine hanno dato una grande risposta perché hanno reagito ai momenti di difficoltà che hanno avuto durante la gara. Ma sai trovare l'equilibrio con queste ragazze giovani non è facile perché poi alla fine magari si fai il time out aggressivo, speri nella reazione, a volte ci prendi, a volte un po' di meno, rimane il fatto che tutte le volte che abbiamo in qualche modo cercato di reagire ci siamo più o meno riusciti e questo è il lato positivo della cosa ecco. Era importante vincere soprattutto perché l'ambiente aspettava questo esordio in casa, e ovviamente anche i tre punti, quindi questo ovviamente ci riempie veramente tanto di gioia perché questo pubblico meritava i tre punti, meritava la vittoria. Dobbiamo lavorare tanto, ma questo lo sapevamo, non mi cogli assolutamente di sorpresa la prestazione sia nei numeri che nell'aspetto, diciamo, nella forma. Noi siamo in costruzione, c'è una squadra che ovviamente ha tutti i pregi della gioventù, della squadra nuova e ovviamente anche tutti i difetti. Sono molto contento perché riusciamo spesso a tirarci fuori dalle situazioni difficili e questo è un qualcosa che possiamo portarci nel nostro bagaglio, nel nostro background e ci sarà molto utile per il prossimo campionato. A proposito di reazione di squadra nuova, nota di merito anche per chi è stato chiamato in causa dalla panchine che è entrato subito in partita e ha dato una grossa mano, quindi è un aspetto positivo anche per il coach napolitano poter contare su tante giocatrici che si sono fatte trovare pronte. Io questa cosa la sto ripetendo un pochino a tutti, soprattutto alle ragazze, che secondo me la duttilità di questa squadra e la possibilità di schierare 12 giocatrici, può essere un punto di forza. La squadra è stata costruita con queste caratteristiche e soprattutto in allenamento dimostra che ci sia una grande intercambiabilità dei ruoli e delle persone. Questo, ripeto, unito al carattere può rappresentare un punto di forza per il proseguo. Questo è quello che io voglio, che ho sempre voluto dalle mie squadre. È bene avere ovviamente un'idea dei ruoli, ma è anche vero che poi alla fine i risultati sono frutto dei particolari e di quello che tutti riescono a dare come contributo, tutti, nessuno escluso. Infine sappiamo che è molto presto perché siamo solo alla prima giornata, però cogliere l'intera posta in palio con questo format nuovo subito è importantissimo per muovere la classifica, far bottino pieno perché sappiamo che mai come quest'anno i punti conteranno molto e quindi esordire in casa e cogliere subito la vittoria piena è sicuramente un aspetto positivo. Io più che altro mi auguro che i tre punti, magari presi anche in situazioni di difficoltà, perché ovviamente bisogna essere anche realisti nel dire che la partita ha vissuto dei momenti anche difficili, possano in qualche modo aiutare questi ragazzi a capire che hanno tanto talento, tantissimo. Il talento di chi può migliorarsi e di chi non deve avere paura nel giocarsi una partita, consapevole del fatto che poi si può anche fare l'errore, ma non deve essere quello a condizionarci e soprattutto l'approccio, l'approccio nel dire ok io sono qui, la partita me la gioco, ho i numeri, il talento, il bagaglio tecnico per poterlo fare e questo è un qualcosa su cui sto lavorando insieme al mio staff tantissimo perché ci credo veramente tanto in queste ragazze, sono ragazze giovani ma che potrebbero veramente darci delle grandi soddisfazioni nel gioco e poi come dico sempre quando si gioca bene arrivano anche i risultati.